Nuovi talenti, cercasi! Questa è la buona nuova della quinta edizione del Festival di Roma che adesso investe anche sul cinema giovane grazie alla sinergia annunciata dal Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni con la Fondazione Cinema per Roma ad otto giorni dall'inaugurazione della Rassegna Internazionale Capitolina riflettori accesi dunque sui giovani creativi e sull'opera prima selezionata tra 25 film in concorso nelle tre sezioni del Festival quella ufficiale, Alice nella città e l'altro cinema extra e sul migliore regista o attore, attrice e protagonista che avrà diritto, oltre che al nuovo premio ufficiale il marca Aurelio Esordienti anche ad un riconoscimento tangibile di 10.000 euro assegnato da una giuria presiduta da Andrea Persanti Peccato, ha detto il Ministro Meloni che sui 25 film selezionati solo due siano italiani Io sono con te, di Guido Chiesa con l'attore esordiente Eastern Miser nella selezione ufficiale e l'estate di Martino, di Massimo Natale per Alice nella città Grazie a tutti